buongiorno 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 eccoci qua sempre da matteo barberi oggi un piccolo assaggio di un di un tema che può essere caro a chi gestisce un'attività economica o chi vorrebbe gestirla ottimizzando i processi per chi mi conosce sa quanto il flusso di lavoro i processi siano fondamentali per risparmiare più tempo e di conseguenza alleggerire quelli che sono i costi di gestione e di conseguenza un aumento dell'utile a fine esercizio ok un aumento con meno costi e meno tempo direi che il tempo è una variabile importante oggi di cosa parliamo parliamo di ottimizzare il flusso di lavoro dobbiamo andare anche a spiegare che cosa sono questi flussi di lavoro che cos'è allora un flusso di lavoro vuol dire che tutte quelle attività che possiamo in qualche modo automatizzare cioè creare una reperibilità una continuità che sia la medesima che tutela da una parte il vostro tempo ma tutela anche gli errori fatti eventualmente dei vostri collaboratori oggi è possibile farlo con molti tool che sono a disposizione ma come sempre il tool logiste voi siete voi che programmate e dite cosa fare potete sapere come prima cosa quali sono le azioni che io faccio in maniera continuativa ogni giorno che fa un mio collaboratore che potrebbe essere fatto in autonomia cioè con un software o con l'applicazione che mi fa in automatico quelle azioni oggi vediamo ne vediamo due vediamo vedere due tool ok che utilizzo per gestire una fase e l'altra stiamo a vedere entrambi ma magari nell'arco di questi prossimi webinar vedremo anche altre applicazioni che vado a utilizzare anche perché ce ne sono più di una che utilizzo nell'automazione oggi parliamo di come si automatizzano la gestione degli incontri dei propri appuntamenti come si gestiscono le consulenze e in automatico in modo tale da non più pensare ad alcune cose cosa non dovete più pensare ora andiamo a vedere per esempio insieme un programmino che in realtà ha sia una versione come sempre gratuita una versione ovviamente a pagamento non preoccupatevi che anche quella anche quella non a pagamento di questa applicazione che vediamo adesso è oggettivamente molto molto utile per risparmiare tempo andiamo a vedere allora che cos'è l'applicazione qui vedete il pannello mio di calendly quello calendly.com c'è la versione base io sto utilizzando una pro a pagamento e vi dico anche per quale motivo che se uno è un'azienda è meglio averli pro ok se uno all'inizio è un freelance o all'inizio con una partita con un sistema iniziale sta facendo le prime cose allora va benissimo il discorso in modalità gratuita e vi dico quali sono anche le differenze calendly nasce per far che cosa per ottimizzare quei tempi che vi posso dire in un arco di un anno voi dovete ragionare sempre sull'automazione in un arco di un anno non del minuto ah ma sono solo cinque minuti moltiplica i cinque minuti per 240 giorni lavorativi e vi rendete conto quanto tempo il vostro personale o voi state facendo cose che poteva fare un piccolo programma ok con poche decine di euro eventualmente che si possono pagare in questo caso anche gratuito anche gratuito ora ecco dov'è il concetto di flusso qual è un problema che io ho sempre avuto che quando prende un appuntamento o con i clienti o con chi faceva la demo o con qualunque altra azione c'è un altro tipo di evento se possiamo definire c'era sempre ti chiamo ah sì noi ci vediamo quel giorno a dopo rimandava un email no guarda mi ha spostato non si può allora questo tram tram di email o chiamate che portano via parecchi minuti parecchi minuti come le risolviamo creando un link con il vostro calendario condiviso un calendario qui vedete per esempio tre tipologie di venti che sono consulenza marketing gli incontri di formazione che faccio io il mio collega con i miei clienti e le demo di presentazione commerciale qui ci sono tre link come vedete voi copia link 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 se io prendo banalmente quella per la prima vado ad aprirvi quella che è gli incontri con i clienti lo faccio in tempo reale cosa avviene momento in cui il vostro utente riceve questi mail come vedete l'utente può scegliere che cosa il calendario c'è l'ora di schema quale matteo barberi se mette a disposizione per fare l'incontro sceglie il giorno e il sistema gli dice l'orario come ho fatto a fare questo andando in canadi io per ogni volta che crea un evento per quello vado in evento quello che verrà creare creare evento ho la possibilità tra le varie opzioni che è ovviamente il quando c'è ogni quanto mi va a schedulare un evento quanto dura quell'evento e poi posso scegliere i giorni in cui io sono disponibile o non disponibile ovviamente questo ho tolto il sabato e le domeniche nel mio calendario ma anche i giorni scelgono per esempio prendo lunedì io messo nove e mezza cinque e mezza però ho scritto anche un time cioè io di quanti ne voglio fare in un giorno non di più ora tutto questo lavoro che lo imposti la prima volta mi permette di offrire al mario rossi che sta dall'altra parte la mia telecamera è scappata alle stelle ok scusate la diretta ok però vediamo se riusciamo a recuperarla ok in questo caso come voi potete vedere io ho il i giorni e mi programma in automatico e cosa avviene il sistema anche nella modalità gratuita manderà un'email all'utente che dice ok confermato il tuo appuntamento e al sottoscritto guarda che ti hanno preso lo slot delle nove questo è già tutto organizzato al suo interno per quello io non devo dico ai miei clienti scegliete voi il giorno poi se questo programma viene integrato possiamo dire integrato controllate integration no ok con google calendar che uso google calendar con tutte le attività che io metto su google calendar che domani non ci sono vanno a riposizionare questo evento che è incontri formativi per quello io devo lavorare solo su calendar non mi interessa tutto il resto perché li ho integrati ok poi il questo il sempre questo sistema mi permette di andare a oltre che a schedulare inserire una serie di altre informazioni voi trovate la possibilità di creare dei sondaggi e a pagamento se va nella versione pro ai workflow che cos'è un workflow il workflow vuol dire che posso dire al cosa far fare appena lui si iscrive all'evento e cosa fare dopo 8 ore o 8 giorni cioè cosa vado a mandare delle email ok lo posso mandare delle email dal mio account in cui dico se avviene questo dopo due ore digli che gli mandi i dati dove andare a farla diretta gli do del materiale aggiuntivo se parliamo di eventi demo per con gli mandi del materiale cartaceo all'utente in automatico cioè mi vado a dare delle comunicazioni standard che chiunque io e i miei collaboratori sono queste programmate prima arrivano l'utente prima o dopo l'evento che è avvenuto c'è c'è la funzione workflow del tank your c'è un email che va sul tank you un rimedi materiali informativi scegliete voi quale comunicazione fare a ha legata all'evento ma prima e dopo l'evento appena si iscrive cosa gli dico quando ha finito la con me la demo ipotizzato che usiamo l'evento demo cosa succede tutte queste comunicazioni sono automatizzate io prima cosa dovevo fare ha fatto l'incontro ti mando il materiale caseta di posta te lo mando allegato rischiavo di sbagliare mille altre cose io l'ho automatizzato perché tutto il materiale mio di comunicazione in base alla fase viene chiamato fan nel questo in base alla fase dove si trova nella relazione tra me e lui io ho creato una cartella una cartella dove lui va scaricarsi tutta la documentazione che aggiornerò di volta in volta se voglio aggiornarla scarica una cartella punto su we transfer punto questo è quello che faccio io su we transfer in automatico cambierò we transfer con i documenti tra l'altro vi farò vedere più avanti come si fa utilizzare we transfer pro ok che è molto carino dal punto di vista aziendale a mio avviso perché da brand positioning e anche avere ovviamente un calendario di business la differenza come avrete notato è che non c'è nessun riferimento al brand calendario ma ci ho messo il mio brand la mia immagine di copertina for meeting e cm ok questo è quello che mi da se voglio poi tra l'altro io creato per automatizzare un link alle dirette che faccio che è uguale per tutti però creato delle slot delle sale su striard altro ottimo programma per fare il one to one come sto usando adesso nel fare questa diretta ok e lì il link sarà sempre uguale perché non faccio due due eventi demo in contemporanea io matteo barberi luca che avrà il suo avrà le sue le sue regole con gli stessi programmi che sto usando io ok capito che non devo più ogni volta non mi costruisco la stanza da nuovo in zoom no io c'ho quelli sempre ricorrente che va a finire a tutti perché nella comunicazione dopo il primo la prima volta che si scrive da qui gli parte ecco qui i dati per partecipare all'evento clicca link e ci vediamo poi c'è ovviamente cosa creato ma una ricorrenza che dice caro mio due ore prima di iniziare dimmi se ci sei voi sapete quante volte nell'arco di webinar dell'ultimo anno abbiamo dovuto chiamare mandare email e non ci cagava nessuno perché devo starli a perdere se ci sei bene però ti ho mandato una comunicazione due ore prima in cui dice mario ti ricordi che c'è l'evento perché magari lui non l'ha segnato il suo del suo calendar ma io lo mando io da calendly perfetto il lavoro me lo stai ottimizzando con un piccolo programma che in funzione come ho detto anche nella versione free e ottimo quello abbiamo visto come un sistema molto banale come calendly tra cui se mi può far risparmiare un bel po di tempo e di nervosismo e che lo fa qualcun altro ok e questa volta non sei lì a fare o devi per forza affidarti a una segretaria per fare un lavoro che può fare calendly con tutto rispetto perché le segretarie oggi per me hanno un ruolo molto più importante di relazione diretta e non automatizzato di questo tipo via email allora abbiamo visto questo concetto abbiamo visto il concetto di calendly adesso devo vedere un altro un altro sistema di automazione che è collegato sempre a una gestione però di mail marketing che tanto faremo webinar e qui in basso vedete esattamente il nostro link su quelli che sono i webinar a vostra disposizione tra l'altro vi invito e vado a condividere anche questa pagina con voi ok se voi vedete qui trovate questa è il nostro che avete potete accedere a tutti sono se non ero quasi 18 webinar ok già registrati con esponenti di calibro nazionale che hanno tenuto una serie di webinar per for meeting che vanno in tutti gli ambiti adesso avremo tre giorni di fuoco settimana prossima parliamo di facebook parliamo di crm e questo è molto interessante perché è la parte conclusiva pratica del percorso di marketing strategico offerto da for meeting alla community di for meeting e ai propri clienti e dico non perdeteli non perdete tornando a noi andiamo adesso su un altro programma che vi consiglio se non l'avete che è altri campaign sistema di email marketing ovvio che oggi avere un sistema di mail marketing dov'è l'utilità al di là di fare delle campagne che significa inviare in modalità broadcast ok a delle liste raccogliere i mail dalle liste per quello ovviamente ci sono i classici campi in cui non faccio più manualmente carico io l'email ma dal sito carico una forma e tutti vengono caricato in quello che sono le liste anche questa è una forma di automazione no ok mi metto le liste in base alla lista fa ovviamente i programmi di automazione con email marketing tratto vi consiglio vi ricordo che tutti i clienti possono accedere se non è attivo chiedetelo alla segreteria avete il corso di ad campaign completo ok sono circa 20 video che ho realizzato a suo tempo per spiegarlo di clienti come automatizzare come utilizzare questo programma e ripeto è gratuito non costa nulla ok per voi clienti e questo è molto importante perché sono veramente tutti i piccoli dettagli oggi vi sto parlando per esempio delle automazioni le automazioni non solo intendo che dei flussi di lavoro che al momento in cui l'utente sostanzialmente va e si trova in una certa modalità partono delle mail di sequenza vuol dire si iscrive a quella lista si ok allora parte quell'email un giorno dopo un giorno un'altra così un'altra così un'altra al campione un po più sofisticato perché va oltre al fatto di viare un email sulle liste ma si chiamano ricordati di questa parola che si chiama trigger che cos'è un trigger trigger al verificarsi di un qualcosa cioè di una chiave di un un lucchetto qualcosa che va a triggare come dico io per quello e dal momento in cui se mi scrivo va bene se ha visto un video all'interno dell'email o ha cliccato lì gli rimandi a quell'altra sequenza se la visualizzata o l'aperta fai un'altra se non l'apre fai un'altra sequenza cioè vado a diversificare la comunicazione in base alla gira dell'utente su quell'email ok se parliamo di mail marketing molto molto interessante ecco perché io si riesco a pianificare anche con un programma di email automation una serie di azioni che vanno a cercare di profilare l'azione l'azione ho fatto un'altra forma di automazione e quanto aiuta voi azienda a migliorare cioè a dare tempo a voi per fare il vostro business ecco perché oggi vedendo queste due questi due semplici programmi che ci siamo appena detti cosa succede io vado a automatizzare una parte di molte le attività ok che normalmente vengono fatte manualmente carico le mail le mando non riesco a gestire una serie di dati ci sono anche altre applicazioni ovviamente di adb che sono completamente gratuite c'è completamente automatizzate pensa la parola remarketing che cos'è il remarketing il remarketing è un'azione che viene fatta al verificarsi di un trigger cioè io matteo barberi sto navigando sul sito il sito all'interno ha un pixel ok votizziamo il pixel di facebook sono i pixel per tutto è non solo per facebook io sono anche i pixel di linkedin se vogliamo andare a vederli cosa vuol dire io sto navigando sul sito il sistema riconosce perché sa che qualcuno l'ha visto gli farà se non conclude l'azione cosa vuol dire concludere l'azione che non fa per esempio non mi lascia di mail che era previsto nell'azione di quella pagina io ti faccio vedere ti faccio vedere io una pubblicità su facebook perché tu ci sei anche su facebook in cui ti richiederò in un modo o nell'altro di concludere quell'azione che si chiamano ti seguono in sostanza quella è un'automazione sì è un'automazione di marketing che prima non si poteva fare sono veramente tantissime automazioni non le puoi fare manualmente quelle automazioni ok e questo ci permette di migliorare e lasciare al sistema di lavorare lascia facebook a google di migliorare le campagne oggi si parla di machine learning cioè delle continue lavorare i dati che l'uomo non sarebbe in caso neanche di prendere e migliora le campagne è una forma di automazione sì c'è sì quella ovviamente è una cosa che dovreste sempre chiedere alla vostra agenzia di automatizzare il più possibile la visibilità dei vostri annunci ok e qui è un concetto molto molto importante i fan sono un'altra automazione sì i fan sono delle pagine che hanno un obiettivo di dare un messaggio ok il web per filtrare quelle informazioni prima del contatto telefonico che aiutano l'utente ad arrivare preparato a quell'evento telefonico o di persona con qualche informazione in più sul for meeting sulla sulle soluzioni in modo tale che anche voi non siete più in una posizione secondaria ma siete un pari rispetto al vostro potenziale cliente oggi mi fermo qui sulle automazioni grazie vi invito a già settimana prossima con i prossimi webinar con for meeting e per adesso un grazie da Matteo Barberi e for meeting grazie a tutti grazie a tutti